e bella raga e bentornati al canale di pop e no come vedete sono su fortnite anzi siamo su fortnite sono perché sono spacciato in questo gioco durò sempre poco e oggi sarà più o meno un passatempo diciamo ecco molto easy partita molto easy e poi così in avanti ecco vedete là è già arrivato uno e io dovrei anche cercare di dare il più lontano possibile da lui perché lui ormai già anche lì stava arrivando un altro quello l'avrete visto ma lì in fondo era arrivato un altro ma fregato il posto in teoria mi dovrei essere fortunato fai pimpi pimpi buttiamo giù il muro iniziamo il mio anzi guardiamo dove devo andare sicuramente l'area si ristringerà qua quindi mettiamo un segnalino lì a a a a a a a Perché sento che mi azzira? Vedete? Io non capisco le meccaniche di questo gioco qui Poi sto anche giocando con un mouse del cavolo, maledizione Basta Eh sì, siamo tornati qua, seconda partita, secondo match E ci lanciamo in game Questa volta prediligerò il mouse e tastiera Ma tanto la solfa non cambia mica perché sono morto prima e morirò anche adesso Andiamo avanti con la pausa del tempo Oh ragazzi, comunque io sono dato che non ci capisco niente Fortnite Altri sparatutto tipo Halo Su console, mica su PC Andava anche alla grande, ma qua su Fortnite Guardiamo il prossimo spostamento che devo fare Ma cos'è quella cortina lì di fumo Che si vede nello schermo Molto strano Deve essere passato qualcuno Comunque Non posso perdere tempo e devo iniziare a muovermi Ragazzi, ho trovato la mia arma Niente Non l'ho trovato Niente Ero contento che avevo trovato il mio cespuglio portotule Niente Comunque è chiaro che Fortnite non fa per me Basta Fortnite The Truth Comunque è tutto Grazie a tutti.